delle grandi difficoltà che stanno attraversando le aziende, i lavoratori, in particolare quelli autonomi, i liberi professionisti. Siamo perfettamente a conoscenza degli enormi sforzi che sono stati fatti per adeguare e riorganizzare i tempi, gli spazi e i luoghi di lavoro. L'esperienza di questi mesi ci ha anche dimostrato che tutelare prioritariamente la salute consente di difendere meglio, più incisivamente, il tessuto produttivo del Paese. Ho visionato anche i risultati dell'indagine che avete reso noto tramite la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, condivido ovviamente la crescente preoccupazione per l'aumento dei contagi a cui stiamo assistendo in questi giorni in tutta Europa e ovviamente anche in Italia. Siamo ancora dentro la pandemia, dobbiamo tenere l'attenzione altissima, forte l'esperienza già vissuta della scorsa primavera, dobbiamo contenere il contagio puntando a evitare l'arresto dell'attività produttiva e lavorativa, come pure la chiusura delle scuole e degli uffici pubblici. Dobbiamo scongiurare un secondo lockdown generalizzato. Per far questo dobbiamo rimanere vigili, prudenti, pronti a intervenire nuovamente in qualsiasi momento dove fosse necessario. L'Italia riparte dal lavoro, è il tema intorno a cui si snoda la vostra riflessione. Il lavoro è una priorità che oggi, dopo diversi mesi di sofferenza, necessita di uscire da una dimensione esclusivamente difensiva per divenire invece strumento di dinamico riscatto collettivo. Nella legge di bilancio definita da poco in Consiglio dei Ministri, lo vedrete, abbiamo puntato su misure che insistono direttamente ma anche indirettamente sul mercato del lavoro. Ampliamento del contratto di espansione, decontribuzione triennale per le assunzioni degli under 35 in tutta Italia, fiscalità di vantaggio che diventa regime per chi investe nelle regioni del sud, taglio del cuneo fiscale, conferma della cassa integrazione dei settori che hanno registrato pesanti perdite e ancora un fondo da 4 miliardi di euro per ristorare gli imprenditori dei settori maggiormente danneggiati della pandemia. Abbiamo in cantiere inoltre una riforma fiscale, ampia, complessiva, nel segno dell'equità, della semplificazione e della trasparenza, anche a beneficio dei lavoratori autonomi. E stiamo mettendo a punto una riforma complessiva degli ammortizzatori sociali, la riforma volta a rendere più semplice, più universale lo strumento di sostegno e reddito. È un disegno che preludia un investimento più grande, un piano di crescita strategico a cui l'Italia sta lavorando, il recovery plan. Abbiamo la necessità, il dovere di immaginare una nuova etica del lavoro, dove non abbiano più asilo le parole sfruttamento, precarietà, diseguaglianza. Un'etica dove sviluppo e tutela dell'ambiente non siano posti polarizzati, ma sinonimi di sinergia, di affiatamento. In virtù di questo convincimento il nostro compito oggi è quello di far procedere insieme lavoro e dignità. Un binomio questo che deve essere condotto al centro del nostro agire civico, prima ancora che politico-economico. Bertrand Russell, il grande filosofo matematico, sosteneva che l'uomo che si vergogna del proprio lavoro non può avere rispetto di se stesso. Ecco, io aggiungo che quando lo Stato e le istituzioni pubbliche non hanno rispetto per il lavoro, le condizioni in cui si svolge, allora è lì che deve sopraggiungere la vergogna. Il nostro dovere è rispettare...